Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione della mobilità in Toscana in questi minuti. A cominciare dalla 1 dove troviamo coda in uscita a Calenzano per chi prevede a Firenze per traffico intenso. In a 11 permangono rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretore, tra Prato Ovest e il Bivo con la 1. In Fipili per incidente, coda ad un chilometro in direzione mare tra Saminiato e Santa Croce. In direzione del capoluogo, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze e sono in corso fino al 4 febbraio i lavori di regolazione idraulica in Viale Guidoni. I provvedimenti di mobilità sui nostri canali social. Aversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Aversi in Toscana Info